Allora, la prima cosa che vi ho portato è un romanzo del Settecento, esce nel 1760, è inglese, esce a Londra. Ho scelto questo perché potevo anche iniziare 500 anni prima o 1000 anni prima, l'ho scelto questo perché è il primo libro che ci è molto vicino ai discorsi della generazione di Mario, anni 50, 60, 70, diciamo. Quello che vediamo qua sono due pagine con un monocromo nero, sotto c'è una pagina bianca dove il lettore dovrebbe mettere un ritratto della sua amata per, diciamo, avere una faccia per la persona che appare nel libro. Poi ci sono dei schemi della trama che dovrebbe essere lineare, come si vede qua, però non lo è perché la realtà fa come vuole lei. Poi è un libro molto molto divertente, devo dire. C'è in italiano, diciamo, si chiama Tristram Shandy, La vita e le opinioni di Tristram Shandy, Gentleman. È molto divertente, è un libro che cerca di essere un romanzo biografico, però dall'inizio l'autore si perde nella realtà, negli meandri dei dettagli e non finisce più. È una cosa esasperante e ogni tanto si ferma e dici adesso siamo andati così, ma dovrebbe andare così. Io faccio vedere questo perché queste immagini non sono mai stati esplorati bene, in un certo senso, però questo tipo di concettualismo verso la scrittura, verso il libro, è molto molto antico. È anche molto più antico di questo libro. Solo qua ha già la bestia che conosciamo tutti noi. Andando avanti, qua c'è un'altra illustrazione, sempre dello stesso libro, di un vecchiotto che gesticola col suo bastone e fa questa figura nell'aria. Molto strano di riportarlo su un libro come una figura retorica, diciamo, come lui lo descrive riproducendo la figura retorica del bastone. È abbastanza assurdo, ma è un libro che ha avuto un enorme successo, era un enorme scandalo anche, ed è stampato fino ad oggi. Stranamente è stato studiatissimo da generazioni di studiosi, ma le immagini sono sempre state trascurate in alcune edizioni, mancano addirittura. Poi il prossimo punto è quello sotto, che esce nel 1876. È un libro di Lawrence Carroll che riporta un monocromo bianco, diciamo come una carta d'orientamento sul mare, che è, diciamo, classica assurdità, e lì andiamo già dal scherzo, come si dice, dall'atteggiamento disperato verso la realtà, che poi con un... come si può dire... poi ci ride sopra e va avanti col libro sopra, sotto siamo già in un'ironia che è un po' più... come si può dire... scontata, già diventa più molle il discorso in un certo senso, e dopo vedremo perché. Il prossimo libro esce nel 1887, nello stesso anno che esce anche Malarmé, è un libro di scherzi stupidi, però è stato stranamente ristampato nel 60, ed era un modello per tanti libri d'artista da lì in poi. è un monocromo blu in questo caso, però tutte le pagine hanno un altro colore, giallo, rosso, blu, e sempre con questa scritta, con un scherzo veramente stupido sotto, sono tutti un po' così. e non lo so cosa c'è scritto qua, sono dei soldati in divisa blu davanti al mare che, non lo so, guardano il cielo, è una roba così, più o meno non lo leggo qua, non è neanche importante, l'importante è di fare dei libri che sono fatti lasciando via tutto, in un certo senso, però non vanno neanche direttamente nell'immagine, perché un'immagine non c'è, c'è un monocromo e basta. Poi il culmine dei libri antichi è quello sotto, uscito sotto il pseudonimo in America, nel 1907 circa, perché escono diverse edizioni, dal 7 al 12, si chiama The Essay on Silence, è un libro relegato in cuoio, che è sempre abbastanza mal messo, e si chiama The Essay on Silence, il libro è vuoto, è tutto bianco, non c'è niente stampato, è solo messo questo piccolo foglietto che ci dice che la nuova edizione che è stata rimaneggiata è portata all'ultimo punto. Qua di nuovo abbiamo un libro sempre di quei scherzi un po' di basso livello, oggi anche veramente scorretti, questa è una marcia funebre per un sordo, non c'è neanche una nota, è vuoto. Sotto è un libro molto famoso che esce nel 18 italiano adesso, è il primo libro italiano, che è di Arturo Mattini, che fa questo libro che si chiama Contemplazioni e ogni pagina altera questi rettangoli neri in un altro modo, è fatto come un spartito quasi, esce in diverse edizioni, 18, 36, 39, e negli anni 50 i da Schiaivilla di nuovo, poi basta. Questo invece esce nel 54, mi sa, sì, dovrebbe uscire nel 54, è di Yves Klein, prima che lui dipinge monocromi, fa questo strano catalogo, che ci sono diverse edizioni, cambia l'autore, cambia il nome, si chiama Yves Pentre, e sono tutti dei monocromi che dovrebbero riprodurre dipinti che non ci sono però ancora, lui li dipinge anni dopo, che abbiamo avuto la conferenza di Giuseppe Garriera su una di queste mostre sui monocromi blu, e allora annuncia un lavoro che non è mai stato fatto, in più quello che ci interessa anche molto è la prefazione, che sono solo queste righe, come le abbiamo viste da Lorenz Stern prima, che sarebbe il saggio del critico, dell'artista stesso, che non dice niente, è semplicemente vuoto. E adesso torniamo su questo libro qua, che esce nel, questo libro esce nel 1914, dalle carte di Malamé stesso che l'ha preparato per la stampa, però doveva essere illustrato, le illustrazioni non sono mai finite, e allora esce senza illustrazioni. È un poema ed è uscito in una rivista prima un po' in un modo diverso, diciamo ci sono delle varianti, nel 1897. Questo libro dentro è stampato così, questa è una pagina doppia, è un libro che c'è ancora in commercio così, è proprio così, questa non è un'edizione originale, ma è uguale al 1914. E lui usa questa grafica molto speciale per mettere appunto le sue idee su una poesia nuova. Diciamo, non voglio entrare troppo nel campo di Malamé, quello che ci interessa di questo libro è che questo libro ha avuto una sopravvivenza in un certo senso nel mondo d'arte che è veramente strano perché è inegualiabile. Come vedete qua, tutti questi libri sono di altri artisti che usano in questo caso la stessa copertina, ci sono anche altri come Mario sopra che non usano la stessa copertina perché ha affascinato il mondo dell'arte tantissimo questo libro, non per quello che c'è scritto dentro ma per come era fatto. Qua vedete due altri di questi libri che non sono sulla pagina. Prima sopra è un libro di Rodney Graham sotto di Gerhard Merz un altro artista tedesco tra l'altro che vive in Italia da decenni e questo è il libro di Marcel Brothers che esce nello stesso momento viene concepito e esce nello stesso momento sono pochi mesi di distanza come il libro di Mario che vedete nella mostra dove il testo viene semplicemente cancellato e il libro viene riprodotto senza il testo diciamo sono le pagine che abbiamo visto prima solo quello che tutti e due non sapevano non lo so di Brothers però di Mario lo so lo ho chiesto e che già negli anni 50 un strano psicologo ha fatto la stessa cosa chiamava Ernest Frank un libro che poi anche questo è stato ristampato in Italia negli anni 90 per fare una ricerca sulla struttura visiva psicologica del libro di Malami però erano ignari ed è molto interessante che proprio nel 68 69 perché lì esce fine 68 inizio 69 e due artisti di rilievo come Mario e Marcel Brothers fanno la stessa identica cosa il libro di Mario esce a San Francisco questo mi sa forse in Belgio o in Francia ok adesso questo era l'introduzione storica su una strana storia di concetti visivi applicati a della letteratura questo è molto importante per entrare nel discorso su Mario Malami era un poeta che ha cercato di portare la poesia a un punto estremamente impersonale oggettivo e freddo oggi non è letto molto molto apprezzato ma non è letto molto soprattutto l'opera sua più letta specialmente in Italia è il pomeriggio di un fauno che è il suo libro programmatico per quello che fa il seguaggio più importante che aveva era Ballery è una poesia che non amo molto è molto stitica molto trattenuta molto cristallina è ammirevole ma un po' un po' fredda è molto lontano da descrivere la realtà lui descrive dei concetti molto sublimi diciamo più che altro rispetto alla lingua ecco qua abbiamo Mario adesso iniziamo con Mario Mario oggi ha 92 anni è una persona che conosco brillante ancora oggi qua lo vediamo nel 62 nel suo primo viaggio in Africa con un capo tribù a Shanti che sul libro ne parleremo ancora Mario si è laureato nel 55 sul futurismo non a caso perché anche il futurismo come tanti altri movimenti dell'avanguardia si si è imbattuto in questa astrazione della della grafica visiva nei libri poi diventa l'assistente il segretario di Ungaretti e intraprende grandi viaggi si sposta in America fino agli anni 60 torna qua poi lavora come mercante d'arte gallerista una soluzione di supervivenza intraprese da tante persone nel mondo dell'arte artisti Duchamp è un grande esempio Duchamp ha sempre vissuto trattando vendendo comprando e vendendo quadri soprattutto e pittura abbastanza conservatore Baitis Giacometti Jean-Michel Aizemios Duchamp era molto famoso come mercante oggi è totalmente dimenticato essendo un artista così canonizzato però la sopravvivenza degli artisti era sempre difficile e ha portato molti a lavorare nel proprio campo e in un modo anche commerciale questo questi sono i libri più o meno che posseggo io di Mario ci sono altri cataloghi con saggi che ce l'ho ma questi sono proprio i libri dove Mario è intervenuto molto che sono proprio di Mario dove lui fa vedere il suo lavoro o quello che sta facendo diversi di questi sono non tutti ma diversi sono anche in mostra ecco qua abbiamo un libro molto importante che esce nel 63 un libro che è fatto in 5 esemplari che lui fa insieme a Giannis Cornelis è un libro che diciamo oggi naturalmente sono 5 esemplari era sempre raro ma è quasi diventato invisibile perché diversi esemplari sono stati tagliati per vendere i disegni di Cornelis da soli ahimè però c'è un esemplare in una collezione tedesca che è questo qua che ho visto io quello di Mario che lui aveva uno l'ha dato alla Washington Library c'è anche lì è un libro dove questo è molto interessante dove due persone si incontrano in una strana collaborazione Giannis Cornelis non lo dimentichiamo era greco ed è molto famoso per i suoi disegni d'alfabeto che sono anche a base di questi disegni qua questo è dovuto il suo interesse all'alfabeto è dovuto al fatto che lui essendo greco doveva cambiare il suo alfabeto in un altro era di un altro le lettere in Grecia sono diverse allora lui la prima cosa che fa lui entra qua in Accademia fa parte del famoso corso di Torti Cialoia bianco e nero dove ci sono anche Pino Pascali Luisa Gardini Gabriele Stocchi e altri che partecipano a questo concorso e decide di iniziare proprio col basic di dipingere le nove lettere le sue nove lettere qua abbiamo poi un testo di Mario che già prendiamo la pagina che già è un perfetto esempio delle sue poesie che sono come dice lui transnazionali è molto linguistici usa diverse lingue molti riferimenti diversi qua usa anche colori diversi sono tutti a colori diversi qua è molto presente che nei altri libri non è così il spagnolo per quello c'è anche questa strana parola speak di Cunelles speak è una diminuitiva o una come si dice una una parola brutta che usano gli americani per i latinos per la gente di origine di lingua spagnola che sono sudamericani soprattutto ma anche spagnoli questo è un tema questa multinazionalità e multilinguistici Mario ci sono due temi nel testo che sono predominanti è il tema della spiritualità un tema molto caro a Mario e il sesso stranamente diciamo i connotazioni sessuali vediamo anche poco dopo perché appaiono molto spesso anche nella mostra si vede la ma anche della scrivere e diverse cose che sono molto presenti stranamente anche dalle cose di Cunelis non ho capito bene cosa voglio dire però Susanna York e Pamela Tiffin erano due attrici molto famosi all'epoca che hanno fatto dei film anche estremamente uno due tre l'una di Billy Wilder e l'altra l'altra ha fatto un film su Freud il film di John Huston che si chiama Freud c'è Susanna York due biondine favolose diciamo che ci mettono con elles è un strano incontro tra questi due uno che esce dalla lingua italiana e l'altro che entra in un certo senso della lingua italiana un libro favoloso mai visto da nessuna parte diciamo io l'ho visto solo in quella collezione qua questo è una rivista del 64 dove partecipano è una rivista francese dove partecipano Mazzoni Fontana Castellani c'è tutto tutto il mondo artistico però anche Ungaretti Gisra Bivaldi Stelio Maria Matidi tutto il mondo artistico viene descritto in questo numero speciale e questo è il testo di Mario tradotto in francese tranne le cose in grassetto che sono già francesi nel testo originale e qua siamo al libro che c'è anche qua mostra che esce diverse volte la prima volta nel 63 l'ultimo nel 2012 ci sono tre edizioni mi sa allora con che generazione abbiamo a che fare perché da lì arriviamo al scusate devo tornare indietro a questo discorso qua che la reazione di loro sul 68 allora la generazione di Mario Diacono è una generazione che ha ancora la diretta il diretto contatto con i sistemi fascisti con la seconda guerra mondiale e soprattutto anche con la liberazione con il senso di libertà che avviene nel momento quando si sa tutti tutti loro hanno un ricordo molto speciale quando si sa che la guerra è finita quando tutti vengono a sapere adesso è finito e da adesso poi siamo liberi e questo è una un'esperienza che segna la vita di tantissime persone che hanno vissuto questo momento poi cosa succede diciamo la società va avanti abbiamo la società dei anni 50 in un modo normale negando tutto quanto poi c'è un gruppo di persone che esce da questi discorsi entra in questa esperienza di libertà in un modo molto di più questo viene poi chiamato prima in America però poi in tutto il mondo la beat generation la beat generation sono delle persone che si sono decise di dedicarsi a un'esperienza diretta con la vita e trasformandola in musica in arte in qualcosa che trasmette la loro visione dei valori che hanno trovato attraverso la loro esperienza con la libertà quando facevi una cosa così negli anni 50 libertà eri automaticamente escluso totalmente dalla società la società era ancora molto rigida molto chiusa eri una specie di marziano però nessuno ti toccava ero un'altra società come oggi perché come eri fuori discorso in un certo senso fuori discorso potevi fare quello che vuoi se non entravi in conflitto con la legge che chiaramente per gli americani per gli italiani meno però per gli americani molto molto spesso avveniva come sappiamo bene attraverso Laurence Ferlinghetti che è stato moltissimo a Roma un assiduo frequentatore della pace però ha passato diverse volte in carcere perché ha pubblicato dei libri che potrebbero nocere dei bambini che non è del tutto logico per noi oggi però era un discorso molto molto assiduo nei anni 50 a proposito quando esce il libro più amato di quella generazione lì che era Urlo di Allen Ginsberg che anche per Mario Diacono questo libro è un libro con un'importanza primaria per quelle cose lì penso anche che i suoi viaggi perché viaggiare faceva parte di questo gruppo viaggiava moltissimo era una cosa che 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 inspirava molto la transnazionalità guardarsi altri contesti altre culture altre lingue altri altri sistemi di spiritualità che perché eritevano svuotati o ambigui o ipocriti quelli che avevano a disposizione soprattutto dopo l'esperienza della guerra dei padri che che dovevano essere orari sono tornati storti naturalmente e così l'esperienza con l'Asia con tante cose un altro libro molto importante era il Zen e l'arte dell'arco di tirare l'arco che è un libro tedesco degli anni trenta che era una specie di liberazione mentale poi provavano di tutto era incredibile la droga però in un modo più legato non al consumismo come lo vediamo noi oggi o come lo intendiamo noi oggi ma più come un modo di accumulare esperienza questa esperienza viene poi o tradotta in poesia come qua soprattutto questa cosa qua che è un libro favoloso bisogna veramente leggerlo è un capolavoro come poesia molto difficile da leggere però la difficoltà non dovrebbe impedire è molto difficile anche da leggere ma questo non è molto più difficile l'unico problema serio che c'è è che le lingue africane non ci sono note dovremmo indagare un po' di più darci più da fare però chiedevano questo di darsi da fare per scutare la realtà per afferrarla e fare esperienza con la realtà e lì arriviamo al problema di questo libro qua i beatnik e devo dire sono in questa sala ho fatto un'esperienza strana anni fa è stato invitato da Luca anche Olaf Nikolai è un artista della Germania dell'Est che ci ha raccontato delle sue cose importanti nella gioventù e così via era una conferenza estremamente interessante perché per me un altro artista tedesco della Germania dell'Est io sono cresciuto nell'Ovest lui nell'Est ci ha fatto vedere un film di Ellen Ginsberg a Praga lui è stato espulso dal Cuba è finito a Praga è stato arrestato anche a Praga è stato espulso in America però a Praga è stato espulso perché c'era una festa studentesca molto tradizionale che era una festa dell'Ottocento che si faceva ogni anno e veniva eletto il re dei studenti e lui è stato eletto re dei studenti e ha fatto un intervento di poesia dove lui racconta in un modo incredibile con una forza e con un coraggio incredibile ha fatto una poesia sul come ti trattano nelle dogane dogana cubana dogana americana e dogana per entrare in Czechoslovakia è una cosa da privi questo veniva filmato questo film girava nel sottobosco dei paesi dell'est era naturalmente totalmente vietato Ginzburg poi è stato arrestato è espulso subito da Praga però questo film è veramente un monumento incredibile di coraggio che un tizio così fa una roba così in più questo paragone diretto tra il sistema cosiddetto libero americano e il sistema dietro la come si dice la tenda di ferro dell'est questa gente lì aveva un senso di libertà e di vita e vivacità e questa è presente anche nel libro feticious di Mario che segna tutta questa generazione che veramente fanno delle cose che in un contesto che per noi oggi è quasi inimmaginabile e che però diciamo come sono i sviluppi negli ultimi anni li possiamo forse immaginare di più oggi che cinque anni fa però è veramente incredibile cosa hanno fatto poi cosa succede cosa succede avviene nel 68 nel 68 è una cosa e Mario mi ha fatto un accenno che la vide nello stesso modo è una data di scissione brusca che finisce la libertà di tutti loro tutti i movimenti che non erano veramente movimenti erano più dei tizi che facevano delle cose assolutamente fuori società e facevano quello che volevano Mario quando è andato in Africa ha preso un mercantile finito il niger poi un pezzo di un autobus non aveva un soldo era tutto un disastro totale il viaggio però che bellezza e che bellezza che ne ha tirato fuori che è quel libro lì che è un libro fantastico e la stessa cosa per il Ginsberg che era il modello internazionale che fa nel 55 58 con Howl con Urló che ho portato diciamo come feticcio l'edizione italiana dell'epoca è un libro veramente che bisogna leggere per capire questo movimento lì allora per tornare al 68 nel 68 inizia la rivolta studentesca e cosa succede precisamente nel 68 nel 68 viene organizzato questo mondo proposto di questa gente che voleva la libertà iniziano i movimenti studenteschi marxisti ruciministi maoisti litigano tutti tra di loro e viene sempre approvato se sei allineato o non allineato entra una restrizione in questi sistemi di libertà generato da loro stessi in qualche modo che toglie il respiro a quello che c'era prima è molto importante capirlo perché un movimento di tre gatti dispersi in tutto il mondo che poi tra l'altro si conoscevano anche tra di loro si sono incontrati Mario ha insegnato nel 68 a Berkeley il Berkeley era un covo di questi c'era Keita e c'era Roscoe l'anno prima erano tutte delle persone che avevano con un senso di libertà che può solo nascere un sistema che è autoritario quasi perché se esci esci totalmente sei fuori questo veniva ristretto e iniziava un altro discorso io lo trovo molto importante o emblematico che due artisti uno Mario e Marcel Broters fanno la stessa cosa cancellano il contenuto di una poesia in questo momento perché gli viene tutti e due questa idea secondo me quel senso che hanno avuto loro un senso intuitivo probabilmente forse neanche troppo riflettuto perché non è che potevano vedere in futuro che succede adesso poi arriva Nixon e fa questo questo no non era quello era più una intuizione che adesso accade qualcosa di irreversibile per noi ci toglie qualcosa ci apre qualcosa però ci toglie anche qualcosa allora torniamo su questo testo poi vi posso potrei raccontare tante cose su quel testo lì questa è l'edizione che ce l'ho io che ha la foto accanto che è la terza edizione le altre edizioni sono anche senza foto come vedete nella mostra è un libro che dovrebbe essere ripubblicato in un'edizione popolare perché è veramente bello non avrebbe successo così non avviene però dovrebbe avere il successo che merita perché è veramente un grande libro lui si mette qua in una tradizione che ho fatto vedere prima sia di queste organizzazioni delle pagine alternative o insolite o che devono precisamente esprimere quello che vuole lui deforma le parole usa tante lingue diverse fa un sacco di cose l'origine di questa cosa c'è da Ezra Pound forse il primo che lo usa Ezra Pound era una figura molto nota in Italia perché lui dopo la storia di Pound è una storia molto triste perché lui vive in Italia il suo primo libro esce stranamente intorno a 1910 a Venezia a Lume Spento era sempre legato in Italia ha vissuto dagli anni 20 soprattutto qua poi arriva il fascismo lui simpatizza devo dire simpatizza il fascismo inizia la guerra e a lui vengono disconosciuti i diritti civili dal Stato americano il Stato americano in questo momento faceva delle cose molto strane con i cittadini all'estero che non erano allineati politicamente e lui è stato disconosciuto e gli è stato negato il ritorno a casa poi si arrabbiò molto andato in furia ha fatto una serie di conferenze radio che sono veramente antipatiche devo dire antisemite ingiuste e questo ha fatto sì che è diventato una specie di public enemy in America è stato preso nel 1945 è stato lui si è costituito poi è stato condannato doveva essere condannato a morte è stato impedito perché gli hanno dato un'infermità mentale è finito un manicomio criminale per 15 anni e poi è uscito attraverso tanti amici che li hanno aiutato e viene in Italia nel 1958 viene in Italia e non lo lascia più non ottiene più i suoi diritti civili e soprattutto diventa muto non scrive più niente e non fa più niente e diventa molto anziano 95 anni una roba così muore metà anni 70 i suoi libri sono stati pubblicati a Scheibilla in Italia sempre regolamenta anche quando era in carcere quelli i manoscritti che non erano editi sono sempre dati avanti soprattutto aveva una figlia con l'amante qua in Italia che viveva anche qua gli italiani li hanno aiutato molto poi era estremamente apprezzato e lui già usa questo tipo di grafica questo tipo di polilinguistica soprattutto col cinese ma anche col greco e con altre lingue nei suoi cantos e poi era il padre di Hemingway di Junabans di Elliot soprattutto Elliot è uno dei poeti più amati di Mario Diacono Thomas Stence Elliot era la terra desolata in Italia un altro di questi libri importantissimi per qualsiasi poeta come Urlo era solo che era degli anni venti apprezzatissimo e anche i quattro quartetti libro più amato di Mario con una visione di cultura che è abbastanza diversa di oggi però questo torniamo dopo però poi c'è il futurismo il Dada il surrealismo c'è Wittgenstein il suo misticismo sulle parole sulla lingua sull'espressione precisa sulla parola giusta per la cosa giusta che tutti hanno letto poi Mario ha tradotto Michaud ha letto molto Bataille Benjamin tutto questo era un cosmo di gente che vedeva la cultura come una cosa che è legata a un'esperienza che ti porta in un sviluppo personale individuale di un livello molto sofisticato da Mario stesso poi ci sono anche altri fonte c'è l'alchimia il discorso dei testi ermetici che appena ha pubblicato un libro della sua biblioteca in tema che è una biblioteca molto bella e molto importante allora nel 68 tutto questo viene organizzato e soprattutto un movimento che viene politicamente organizzato ha bisogno del slogan del messaggio corto pubblicitario quasi è un messaggio che viene ridotto a una piccola frase e chiaramente questa generazione non si è sentito molto confattato di questo sviluppo però li ha interessato sono entrato nel discorso e anche Mario questo è un libro del dopo del libro di Malarmé del 71 entra in questo discorso lì però rimane il suo amore per il non dicibile diciamo per il simbolo per le cose portate da lontano che vedete sull'altra pagina perché diciamo c'è qua power is violence è un classico slogan di quegli anni lì siamo nel 71 però l'altro libro è quasi tutto legato a un discorso ornamentale di quel genere lì o di disfare una parola come life in tante cose lui entra in questo discorso lì e da lì lui inizia a insegnare nel 68 e poi torna a aprire la sua galleria lui da lì va su questi oggetti che vedete sopra nella mostra delle vitrine nei oggetti misteriosi esotici e misteriosi molti hanno un tema dell'esotismo di questi oggetti lì si sposta in un discorso diciamo sempre meno intelligibile e lì succede una cosa dove lui interiormente si ritira nella sua interiorità e nella sua esperienza che ha e fugge una specie di torre di avorio devo dire come è successo per tantissima gente negli anni 70 tanti anche in Ginsberg sono diventati molto silenziosi e capiscono poi cosa succede alla fine degli anni 70 pian pianino gli viene il dubbio sulla sulla come posso dire sulla caduto però in questo momento arrivano gli anni 80 e gli anni 80 sono gli anni del del guadagnare gli anni di Reagan seccia della nuova economia sono quegli anni che portano a noi portano a un nuovo sistema di cultura di massa di consumismo di economia nuova che è tutto un altro discorso che fa totalmente non solo impossibile di fare quelle esperienze che hanno fatto questa generazione lì ma fa anche impossibile di capire questo sistema di esperienze che hanno fatto loro allora lì è molto difficile entrare nel discorso perché è questo e il tema di questa conferenza è cosa ci dice questo qua a noi allora per capire uno per capire quello che è successo prima del 68 devo dire che vale la pena vale la pena sia di leggere le poesie di Mario che conosco di prima della cosa che è in Ginsberg e tutta la Big Generation Ferlinghetti o chi volete e poi seguire questo filo che porta verso di noi perché è molto molto importante quello che ci succede perché io che adesso non sono più giovanissimo o di fronte delle persone più giovani che vengono qua al museo o vengono a qualsiasi museo o a qualsiasi galleria io che faccio il lavoro artistico lo sento dalle domande che vengono fatte a me hai di fronte delle persone che non sanno neanche che c'è questo tipo di esperienza che c'è questo tipo di esperienza e di condivisione di esperienza con gli altri e questo tipo di contenuto in un'opera questa esperienza diretta con un'opera che ti apre non solo il cuore ma ti apre anche la testa ti apre tutto un mondo che prima era chiuso e questa cosa è sconosciuta oggi molto stranamente è un sapere che è stato perso ed è molto molto spiacebile devo dire e devo dire e lì c'è anche la critica alla generazione di Mario una critica che devo dire è molto lieve perché erano anni duri per per loro perché non sapevano bene come muoversi perché il mondo si chiudeva sempre più pian pianino loro quello che facevano loro quello che avevano fatto prima sembrava una specie di folklore una posa una posa pubblicitaria per qualcosa che non era più quello che era prima del 68 allora poi avviene un'altra cosa avvengono tante cose molto strane per esempio la classica formazione nel mondo dell'arte il gallerista l'artista e l'intellettuale si rompe in qualche modo colpa anche degli artisti del concettualismo anche perché il concettualismo fa una cosa molto strana apre una sua idea di concetto e sposta gli intellettuali gli intellettuali poi si guardano bene l'arte guardano bene il concetto e chiaramente un filosofo se vede un concetto dell'arte concettuale ci sorride sopra e volta le spalle perché non è più molto interessante per lui perché quello che non c'è più è il contatto diretto con una realtà nostra diciamo allora si perde anche gli intellettuali seri cominciamo a fare a scrivere i testi da solo gli artisti come Mario diventa anche il gallerista e poi scrive anche i testi nei cataloghi perché il mondo è cambiato il mondo si diventa più muto meno libero e tutto diventa fai da te tutti diventano tutto e questo però è un sviluppo che è sottile che va molto 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 lento e non si accogono in più hanno da fare insegnano Mario ha avuto la galleria era entusiasto dell'arte sempre nuova e nuova e nuova però non 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 si ferma questo sviluppo diciamo il mondo serio si ritira in una specie di toro d'aburio che è successo non la prima volta nella storia è successo tante volte allora cosa si può fare che fare questo è la domanda e lì arrivo adesso a delle conclusioni uno bisogna esaminare molto bene quello che ci hanno da dire la generazione di Mario soprattutto prima del 68 è veramente cruciale non quello dopo che è molto di moda sono gli anni 70 e ormai anche gli anni 80 forse ma devo dire che lo spessore che ha raggiunto il mondo dell'arte e i testi intorno all'arte e della poesia e anche del romanzo anni 50 60 sono veramente spaloditivi e sono molto importanti per noi oggi perché adesso ci rendiamo conto un po' di più che si è perso qualcosa e non sappiamo bene cosa è allora bisogna trattarlo molto bene questo modo esaminarlo leggere le cose e cercare di capirli perché c'è qualcosa rinchiuso là dentro che è molto molto importante diciamo la cultura oggi abbiamo la sensazione che la cultura è diventata o una strategia commerciale di sopravvivere di procurarci da vivere o una specie di gioco o tutti e due insieme un gioco che ci fa sopravvivere il mondo dell'arte ormai è strutturato un po' così la gente si comporta così è un mondo che diciamo di divertimento ma non non ha il contrapeso del spessore e questo contrapeso è molto molto importante l'esperienza e lo spessore sono le cose che ci fermano formano individualmente e ci danno la vera felicità e la vera gioia ci danno quello e sono anche quelli che possiamo attivare quando ci divertiamo perché se no il divertimento diventa un passatempo in un certo senso un giochetto un solitario un solitario sul computer è molto un'immagine molto acuta di questo che ormai il solitario o candy crash o whatever è quello che pensiamo che è divertimento ma non lo è il divertimento dovrebbe dare di più dovrebbe aprire il cuore e guardare l'arte e fare l'esperienza per quello ci dobbiamo sensibilizzare e dare di tutto perché questa esperienza è inegualiabile perché ha un spessore veramente alto allora la cultura di massa invece è legato alla quantità sempre di più sempre più veloce sempre più immagini più quadri per superare la frustrazione dell'immagine singola perché se l'immagine singola la nostra esperienza con l'immagine singola non ha spessore abbiamo bisogno di più non so quante foto si fanno in Italia oggi però in Germania si fa 50 miliardi di foto all'anno la popolazione fa 50 miliardi di foto però di questi 50 miliardi rimangono molto poche che hanno spessore secondo me e allora non è una strategia buona perché non ci porta in fondo ci porta solo a superare la nostra frustrazione ma non non ci dà di più perché la frustrazione quando ci fermiamo rinizia di nuovo allora l'individuo e il suo senso per i valori per il bello e la gioia diciamo diventa secco stitico e noi artisti siamo quelli noi artisti dico nel senso anche più largo non sono gli artisti che fanno quadri sculture ma anche tutti gli altri scrittori poeti quelli che ballano fanno musica la musica faccio una piccola cosa dopo è una cosa molto molto importante per tutti quanti l'artista ha un lato da folle e non lo voglio assolutamente negare perché però è un folle che opera con serietà e per la verità per la realtà per afferrare il mondo che abbiamo intorno allora un'altra non ho fatto la foto un altro un altro lato di Mario sono i suoi saggi i suoi saggi sono molto belli sono molto diversi sono legati a cattuali cataloghi però c'è un saggio devo dire che è molto molto speciale che esce in questo libro qua che è un catalogo che è stampato in un modo straordinario per quello lo possego è più un caso che ce l'ho perché è un tipo di stampa molto strano perché sono quadri che si vedono sia davanti che dietro di Sigmar Polke il saggio di questo catalogo è un catalogo di Sigmar Polke nell'89 nella galleria di Mary Boone e Michael Werner diciamo si trova su Abbebook su Marimannium o così è veramente interessantissimo perché lì nascosto dietro la sua recensione di Sigmar Polke che è eccezionale che diciamo era un pittore abbastanza alchimico che l'alchimia era sempre molto molto cara a Mario lui ci illustra una cosa anche come lo vede lui l'arte come è dell'89 allora molto dopo di queste cose qua è una specie di somma di quello che lui pensa sull'arte molto importante come saggio se potete leggetelo devo dire è un libro che devo dire adesso l'ho riletto ed è molto caro va bene adesso arrivo alla fine allora gli artisti negli anni 70 fanno una cosa che viene già annunciato negli anni 50 da un scrittore tedesco Ernst Jünger era un scrittore molto strano perché era di destra ma non era un nazista era un personaggio abiguo molto strano però scrive dei libri estremamente interessanti lui fa 102 anni diciamo ha già una carriera dal prima della guerra prima guerra mondiale fino al 99 diciamo è molto lungo e scrive tutta la sua vita però scrive un libro che si chiama il cammino nel bosco negli anni 50 di questa idea dell'artista che sparisce dal mondo pubblico che sparisce dal suo contesto e si rifugia nel bosco nel bosco è un termine metaforico in questo caso come è una figura molto vicino agli eroi dei film americani che sono sempre i lottatori unici che sfidano tutto il mondo questo però è un'idea di società molto disperata e già lui prevede quello che succede poi negli anni 70 ed è successo è entrato che poi per quello non abbiamo più movimento non abbiamo più gruppi di artisti non abbiamo troppo poco comunicazione tra tutti noi come vediamo siamo tre gatti qua anche dovrebbe essere piena la sala nel 1965 a Praga sarebbe stato assolutamente pieno di gente adesso non lo è e non è giusto non è giusto siamo nel museo contemporaneo di Roma e l'istituzione nostra per tutti noi deve essere piena tutti ci dovrebbero essere non ci sono mancano anche gli amici miei perché oggi è diventato così senza ramarico però è la considerazione di un fatto che non è un bel fatto è un brutto fatto e dovrebbe essere revisionato totalmente e anche Mario ha fatto questo cammino nel bosco è sparito nella sua galleria nel suo insegnare è sparito a Boston i testi non sono più ristappati solo nei ultimi anni qualcuno però sempre in un modo troppo esoterico dovrebbe essere curato l'Italia è da sempre un paese che devo dire fa molto poco per la sua storia recente sono ancora lì a revisionare il 600 e dopo c'è una terra incognita quasi il 900 italiano che è veramente uno dei più ricchi contesti del mondo nel mondo creativo è veramente incurato non si trova cataloghi per trovare libri di diacono è veramente difficile e lì bisogna collaborare non puoi neanche andare in biblioteca perché non ci sono sono usciti come cataloghi di galleria che non sono mai finito che noi li possiamo prendere e leggere non c'è una buona biblioteca sull'arte a Roma è indicibile per quello ci sono questi pochi collezionisti come noi Giuseppe e altri che hanno delle biblioteche stratosferiche perché abbiamo tutto quello che in biblioteca non si trova però non è una cosa giusta non è una cosa giusta che io una cosa che la biblioteca nazionale non ce l'ha se succede una volta va anche bene però ne sono centinaia di pubblicazioni così Giuseppe altri idem e non non lo trovo una cosa buona diciamo lì le istituzioni dovrebbero lavorare un po' meglio diciamo il sistema è diventato molto più narcisista c'è un sviluppo narcisista che vediamo benissimo in politica da Berlusconi in poi diciamo abbiamo una specie di narcisismo autistico che pensa che sa una persona pensa che sa che va bene per me è un po' strano diciamo però tutto questo questa società del spettacolo come lo dice il situazionismo che non amo molto però il situazionismo nell'analisi della società dei spettacoli ha ahimè abbastanza ragione diciamo una delle mie parole preferite nella stampa dei ultimi mesi è la parola Draghistan è una parola molto molto divertente per descrivere il narcisismo politico italiano così col 68 in un certo senso l'avanguardia è finita e diventa una specie di retroguardia oscura non afferrabile nel senso che tutto è diventato sconosciuto il mondo non è più diciamo una persona che vuole conoscere il mondo dell'arte a Roma cosa fa? dove va? neanche qua si trova non c'è più il bar degli artisti è diventato una cosa turistica del cazzo che veramente non si può non si può andarci allora è molto importante che si collabora che sia rispetto per gli artisti che ci sono il rispetto per gli artisti è molto molto interessante allora arriviamo a un libro che fosse un libro più brutto che si si è il libro più brutto che ho in biblioteca però vi consiglio tutti a leggerlo è un libro favoloso su questo tipo di problema e sulla tradizione del problema su Pasolini su Agamben su Benjamin è molto preciso e per quello ve lo faccio vedere allora bisogna guardare bene nelle nicchie e collaborare bene e c'è questo paradosso dell'arte l'arte è indistruttibile però nonostante questo viene sempre attaccato e distrutta facilmente e però rimane indistruttibile perché la gente come noi non molla mai grazie grazie a